Nello scorso video Stiamo a spaccare tutto perchè la strength force è un carico Carico come una bestia Easy Ragazzi facciamo il panico Proprio devastiamo tutto Preparatevi perchè le parallele Le piego a testate Preparatevi Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video di Listen O benvenuti nel caso non siate iscritti al canale Iscrivetevi Oggi siamo qua alla strength war a Cantuasnago Ci sono poche cose da dire Sicuramente conoscerete che tipo di gara è Una gara di street lifting Ora sono molto gasato sotto caffeina Quindi poche palle Devo andare a pesarmi Poi mi cambierò Metterò magliettina Listen Che trovate nello shop E metterò le ciabatte perchè voglio stare comodo nel frattempo E niente ragazzi Sono carico come una mia Adesso andiamo Andiamo Ok abbiamo fatto la pesa Ma quel cretino del cameraman Non ha ripreso purtroppo Ero lì che oscillavo tra gli 86 e 9 e gli 87 Purtroppo 87 Quindi più 87 Ho già visto dei cinghiali mica da ridere Quindi sarà molto combattuta oggi Vediamo di fare al meglio possibile Ora stanno chiamando le categorie varie Di peso che devono dare i cartellini Tutte quelle cose noiosissime di organizzazione E tra un po' si parte Come funziona? Avremo tre entrate Dove dovremo provare a far sempre un peso più alto E sostanzialmente è una gara del tipo Chi fa più peso vince Alla fine con tre al totale Quindi io avrò tre alzate da fare Partiamo con i pull up Deep e squat Alla fine si sommeranno i pesi massimi che ho fatto E si farà una classifica Chi ha fatto il totale più grande ha vinto sostanzialmente E nulla Speriamo di far bene Sono gasatissimo E ora si parte Non mi so peace out Remember you're discreet Get ready for defeat Now I'm gonna make you bleed out Listen I'll repeat now And weed out all the weak now Get up and make a change Don't remember yesterday If you got something to say Speak your mind before you're brave Cause your life is yours to save Ain't nobody gonna change Everybody stays the same So be different Make a name And just like a soldier And I keep on moving forward Never stop Life Dai eh Tira 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 Dai ragazzo Sei lì Dai 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 Ok ragazzi abbiamo finito Fare pull up Sono abbastanza Nevrotico Perché mi hanno annullato Una terza alzata Che secondo me Ci stava tutta Adesso beh Voi l'avete probabilmente già vista Quindi Lasciatemi un parere nei commenti Se secondo voi Fosse buona No Io non sono un tipo polemico Con l'arbitro Quindi appena metto no guarda non è valida Ho detto va bene Non preoccuparti Cioè non me ne frega un cazzo sostanzialmente Però ora sono veramente nero Quindi i dip Entrerò incazzato come una bicia E cercherò veramente di portare a casa un nuovo PR Quindi Adesso vediamo Comunque Su un carico Su un carico Un carico Un carico Un carico Grazie a tutti Allora dip finiti Prima alzata ho fatto una gran vacata E ho sbagliato a legare la cintura Però fa niente e quindi nulla Seconda alzata 105 Pulitissima come se nulla fosse E ragazzi in terza alzata è successo il fattaccio Praticamente l'ho fatta come probabilmente vedrete dal video Sono sceso Due giudici bandierina bianca Un giudice bandierina rossa E io ancora mi chiedo dove cazzo stesse guardando quel giudice Perché effettivamente le spalle erano simmetrici Ho rotto il parallelo con tutte le spalle Però niente Oggi non vogliono farmi ufficializzare nessun PR Vedremo nello squat Ora sono ancora più incazzato di prima Sono veramente nero Sono anche stanco Sto digerendo E non ho pieni coglioni Quindi vedremo di fare una roba Di chiudere la pratica in fretta E basta Sto digerendo Sto digerendo Sto digerendo e ricordiamo la pesa dalle otto e mezza e la chiude dalle otto e mezza alle dieci la pesa ragazzi apritevi gentilmente fate vedere a tutti 210 kg sta superando di 10 kg ha fatto l'anno scorso 200 e ci siamo eccoci qua dai eh chi si vuole 210 kg 210 kg l'hanno visto Angelo? domani fai il cameraman ma poi stupisco tutti con 322 kg ah perché c'è la percentuale fattee anche io ci sono rimasto fatte musica di Giorgino domani andrà a studiare è proprio bello scusami 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 l'abbraccio sorriso di Giacquinati e oggi ci stiamo eeeh teo e Marta hanno riempito di birra 6 giga per girarmi poi la macchina è mia ok ragazzi la gara è finita siamo cucinati da far paura però è andata bene il totale era abbastanza alto però c'era il coefficiente a 1,7 sullo squat non mi ricordo quanto quindi non mi ricordo quanto è il totale però va bene domani mi spiace ma non riuscirò ad andare a vedere gli altri più forti perché sono veramente cotto e non l'abbiamo fatto abbiamo fatto una bella gara siamo venuti per vincere effettivamente senza troppe pretese ma ragazzi abbiamo vinto alla fine quindi va bene così sono felice però scusate se non sono molto attivo come al solito sono veramente stanco non sto capendo veramente più niente quindi non mi resta altro che salutarvi dirvi di iscrivervi al canale mettere mi piace un commento seguirci sulle nostre pagine social ciò che vedete magari in anteprima anche alle gare qui andremo con le cose lì tutte le varie anteprime i vari spoiler dei video scriverci qua sotto nei commenti comunque la vostra sulle alzate se vi sono piaciute come lo fate come non lo fate se non siete d'accordo con il giudizio di qualcuno va bene tutto e niente ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao